Hai sentito parlare di acquisti a caso e noi scappiamo in Burkina Faso o ti hanno minacciato di morte per parteciparci, ma non sai come funziona? Hai visto prodotti venduti a pochi centesimi ma non riesci a centesimi? Acquisti a caso e noi scappiamo in Burkina Faso utilizza il sistema delle aste inculari, in cui ogni utente partecipando alle aste contribuirà alla diminuzione dei nostri debiti del 90% e la spedizione della guardia di finanza a domicilio è totalmente gratuita. Il funzionamento è semplice. Ogni asta è basata sulla temperatura di un ghiacciolo al tamarindo. Se è freddo, il prezzo raddoppia. Ogni tot, il prezzo verrà incrementato di tot. Dopo tot, l'asta finale tot sarà giudicata all'utente tot che ha fatto l'offerta tot, con un tot di parentiano in comune. Hai vinto! Prova ora le aste inculari di acquisti a caso e noi scappiamo in Burkina Faso. Per te, due puntate gratis di Pugnale d'Amore. E se non sei soddisfatto dell'ennesima asta persa, avrai diritto ad un bonus per un'olteriore puntata di pistola. E se farai ulteriori reclami, riceverai una visita ad alcuni nostri amici con l'hobby della piromania. I prodotti sono rubato garantito. La probabilità di aggiudicarsi l'asta è pari a quella di non mangiare la porchetta alla sagra della porchetta. Salve a tutti, mi è arrivato fresco adesso nella cassetta delle lettere il mio iPhone 4S da acquisti a caso e poi scappiamo in Burkina Faso.com. Ecco, voglio farvi vedere l'affidabilità assoluta di questo sito serio, di questa azienda. Le aste online affidabilissime, non ha mai deluso nessuno questa grandissima ditta. E ora vi farò, sono qui per spacchettare il mio iPhone 4S e farvi vedere che meraviglia di cosa ho trovato a un prezzo veramente straordinario di soli 189 euro a rate, a rate di 40 anni, di un euro al mese. Ma, ma, forse è un nuovo modello di iPhone 4S super tecnologico, super... BASTARDI!